legati a contesti criminali e mafiosi. Nonostante venisse fatto bersaglio di colpi d'arma da sparo, rispondeva prontamente a prendere il fuoco, riuscendo a porre in salvo il presidente del parco e a far desistere i malviventi dal loro intento criminale, costringendoli alla fuga. Mirabile esempio di coraggio, altruismo e virtù civiche. San Fratello Messina, 18 maggio 2016. Consegna il premio il signor prefetto di Cuneo.